Ancora uno schianto fatale nell'aretino a perdere la vita una centauro di 61 anni. Il terribile incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 11.30 lungo la strada provinciale Valdarno-Casentinese sulla bretella di Terra Nuova-Bracciolini. Un violento impatto tra una moto ed un'auto in uscita da un distributore di benzina. Ad avere la peggio è stato il motociclista caduto rovinosamente a terra. Il centauro sarebbe stato poi travolto da uno dei mezzi in arrivo sulla strada. La vittima, si chiamava Andrea Novelli, era originario di San Mauro Pascoli nella provincia di Forlicesena, ma viveva a Dancona. Era arrivato in Valdarno con un gruppo di amici. Le sue condizioni sono apparse molto gravi sin da subito. Sul posto si sono precipitati soccorritori con un'automedica ed un'ambulanza. È stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. All'ora arrivo il motociclista con un grave trauma toracico era già in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per più di un'ora, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno infatti potuto far altro che constatare il decesso del 61enne. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi di legge spetterà adesso a loro chiarire le cause del drammatico incidente.